allora facciamo un attimo qua un briefing con noi stessi ho messo una luce qua davanti fa un po' blair witch project però insomma forse aiuta allora facciamo questa roba così la faccio con la videocamera accesa col microfono e tutto perché così devo essere più concentrato allora oggi è un giorno di aprile 2021 allora oggi è tuesday aprile tortin 13 allora aprile è tipo qua e per finire l'anno mancano ancora tutti questi per cui se noi vogliamo metterci degli obiettivi da qua a fine anno ci abbiamo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre otto mesi alla fine dell'anno per cui adesso noi pensiamo che da qua alla fine dell'anno vorremmo lavorare un po cioè un part time va bene part time va bene mettere via due soldini perché tanto restiamo a vivere qua e poi alla fine dell'anno avere due soldini messi via il lavoro che va avanti oppure un po di disoccupazione ma sarebbe meglio che lavoro andasse avanti part time le robe qua su facebook e instagram le robe che stanno crescendo così noi portiamo avanti la nostra vita quotidiana con lavoro due soldini che entrano dal lavoro qualsiasi però continuiamo con la nostra passione artistica con l'arte la musica il teatro l'intrattenimento in modo che le cose possano crescere in maniera parallela allora se adesso è aprile cos'è che possiamo fare noi è metà aprile fuori è brutto tempo io non ne posso più di stare in casa non ne posso più per cui trovare un lavoretto capito sarebbe anche è utile perché almeno ho una scusa per andare in giro che poi magari a maggio diventiamo un po più giallini anche se il giallo quando uno diventa giallo poi sta male per cui siamo a metà aprile ormai inoltrato e sarebbe bello iniziare un procedimento a procedere verso l'estate in modo che aprile poi c'è maggio giugno sto visualizzando i mesi maggio giugno maggio giugno luglio agosto settembre cinque mesi almeno di un lavoro stagionale dai che almeno si guadagna qualcosa qua in casa sono più contenti io posso comprarmi una pizza ok e poi arriviamo a settembre non è male alla fine questa luce in faccia così e poi bisogna contare che adesso a metà aprile questa settimana facciamo uscire il primo video della serie nuova cose a caso e poi magari ci diamo un po dentro quel vlog come queste puttanate qua capito perché queste sono puttanate cioè nel senso a nessuno interessa sapere cosa faccio io soprattutto con l'agenda così cioè proprio non sai neanche che giorno è capito che mese è io non so che mese è potrebbe essere settembre a me non cambia niente non ho più senso ma non va bene non è che sono entrato nell'uno e mi sono fuso col tutto no è che sono fuso poi questi occhiali cioè sono sporchi eh però non mi dispiace l'inquadratura così un po black humor per cui adesso noi cominciamo a fare i video capito a pubblicare i video a programmare i video sono 15 uno a settimana a metà aprile sono 4 8 12 e 2 15 per cui c'ho aprile maggio giugno luglio arrivo fino a fine luglio con questi questi video qui programmati e va bene cioè gli occhiali non servono e va bene perché così andiamo avanti col cristo con la via crucis della vita la mia è la cervicale il peso della vita c'era tutto qua capito fa male un po' come briefing mi sembra abbastanza completo non ho deciso niente però a me serve il confronto con nessuno per a me questa luce non dispiace è lì appesa così posso anche aumentare così è troppo però non ho deciso niente però sto meglio è troppo più